Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Come potete vedere oggi sono molto felice, anche perché ho scusato che in questi giorni non sono riuscito a fare video, ma avevo degli impegni miei personali, quindi non ho potuto fare video. Però ragazzi, oggi sono tornato per dire che ieri finalmente è uscito il mio film Mirko News, ma peggio filmista di vacanze, e sono molto contenta che sia stato pubblicato, che così da adesso in poi non avrete più limite di tempo, lo potete vedere tutte le volte che vorrete. Anche perché il film ragazzi è uscito ieri, il 10 settembre, invece oggi è l'11 settembre, e sapete cosa c'è domani? Domani in sella mia scuola a bagnatica vado ufficialmente in seconda media. Da domani finalmente entrerò in seconda media. Insomma, un bel traguardo. Comunque ragazzi, io sono molto contento che sia uscito il mio film, dove potete scoprire qualcosa di più sul signor Mirko News. Ovviamente non vi spoiler, perché magari non l'ha visto, ma per chi non l'ha visto ve lo consiglio di vedere, anche perché il film ha una storia in sé che dura circa 35 minuti. Ok? Dura 35 minuti il film. Ok? Poi ieri ci sono stati i primi 10 minuti, un'ora prima, sì, no, due ore prima, che venisse quello completo, perché i primi 10 minuti non sono proprio completi, i primi 10 minuti li potete vedere, per chi magari non ha tanto tempo per vedere il film completo, ma magari i primi 10 minuti si guardano magari prima di vedere il film completo, per capire un pochettino prima cosa c'è. Però il film e i primi 10 minuti ve li consiglio di guardare. Cioè ragazzi, io adesso, sapete dove vi trovo? Sono proprio sul set del film, ragazzi, in questo momento. Vi ricordate questo tendone qua? Ecco, mi trovo esattamente sul terreno del casello San Marco. Ok? Sì ragazzi. E nel nostro set, abbiamo messo il robottino che taglia l'erba. L'abbiamo messo noi. Insomma, mi trovo esattamente sul set. Qua, per chi magari non l'ha visto, qua ci sono state delle scene, ragazzi. Proprio qui, 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 sotto questo tendone. È successo qualcosa di incredibile, che non vi spoiler, perché ho paura che magari voi non vediate il film, ragazzi. Comunque, sapete che in questi giorni, queste settimane, sono stati pubblicati anche i trailer. E domani, no ragazzi, svegliato, oggi uscirà la canzone, l'avventura. che è la canzone, l'avventura, quella che si trova nel mio film. È stata proprio girata qui, ragazzi. È stata proprio girata qui. E devo dire che la canzone, appare mio, che l'ho cantata io, è molto da ascoltare. Perché, perché la canzone, ragazzi, vi ricordo che fa sempre parte del film. ok? C'è la vendetta del signor mister e questa finalmente è uscita la seconda saga, ragazzi. Non vedevo l'ora che sia arrivato questo momento, ve lo dico. Sono molto felice, perché qua, ragazzi, un po' di cose sono successe, se guardate questo nuovo film, che è sempre la seconda saga. Perché è collegato al film, il mercoledì mi sapevo il film e la vendetta del signor mister. Io vi do un consiglio, guardateli tutti e due, perché sono collegati, ok? Guardateli tutti e due, perché sono collegati, quindi è molto importante riguardarlo. Ok, laga? È molto importante riguardarlo. Il film è il secondo, perché sono collegati. E da lì, insomma, secondo voi, cosa sarà successo alla fine del film? Bene, lo scopriete soltanto guardando film, perché l'ha già visto e lo sa. Insomma, tutto il film, ragazzi, è da vedere. Sì. E mi ha dedicato un commento di un trailer da una persona della... Oggi, ragazzi, il robottino, quello che taglia l'erba. Cioè, ragazzi, in questo momento, sapete cosa. Poi, non sapete delle cose che vi dirò domani. Domani vi dirò dieci... no, cinque segreti che non sapete sul film. Ora non vi dico niente. domani vi dico domani. Ve lo dico domani. Ve lo dico domani. Ve lo dico domani, ragazzi. Cinque segreti che non sapete sul film. Eh, lo scopriete appunto domani. Perché in realtà qua non è una semplice cosa. cioè, ragazzi, in realtà, qui non è solo il casello San Marco. Anche il casello San Marco. Ma, cioè, il casello San Marco non è proprio il casello San Marco, però fa sempre parte del terreno del casello San Marco. Perché, ragazzi, il carretto adesso l'abbiamo tolto che era a dieci chilometri di distanza. È veramente tanto. Ci hanno dovuto andare in macchina perché se no a piedi non ce la facevamo. Insomma, cioè, ce l'ho fatta arrivare fino a qua a piedi. Immaginatevi. Comunque, ragazzi, domani scopriete cinque segreti che non sapete sul film, eh. È importante, dovete esserci tutti. Comunque, ragazzi, ci vediamo nel video di nuovo. Ciao, ragazzi.